carissimi carissimi membri della famiglia vincenziana che vanno partecipare qui in roma del 12 al 15 di ottobre e nel simposio celebrando il 400 anniversario del carisma vincenziano è un momento di tremenda gioia grande gioia un momento di grazia per per tutti e per quelli che avranno la possibilità di partecipare fisicamente qui in roma e anche per tutti chi non potranno partecipare fisicamente ma staranno in contatto contatto con noi noi staremo contatto con voi per tutto il mondo e por medio della social media por medio dell'internet della tv della radio noi vogliamo che questa celebrazione questa festa sia una festa di tutta la famiglia di tutti quei questi che si sentono vecini al carisma vincenziano per questo che questa mano e che queste mani abbracci abbracciano ogni ognuno di voi che insieme di insieme aprire il cuore a gesù che parlerà durante questi questi giorni parlerà perché questo è un momento di grazia e parlerà in noi risponderemo risponderemo perché vogliamo questa nostra preghiera vogliamo che la carità sia globalizzata in noi faremo tutto lo possibile di andare avanti in questa direzione grazie tante grazie per la vostra preghiera e andiamo avanti insieme grazie